Oh jeez, here we go. Mr. Federico. And Aldo. And Fabrizio. In the same room. What is this? A crossover episode? You know, that gets funnier every time. Ben tornati a spin-off, questa è la sesta puntata. Come? Plot twist? La 1. No, no, no. Ben tornati a spin-off, questa è la 1 per 06. Ho detto sesta puntata apposta perché, voi non lo sapete, ma nel dito le quinte ci sono varie discussioni su come dare l'annuncio. A me piace dire 1 per 06 e sono conduttore e quindi manterrò questo formato. Mentre qualcuno preferisce dire sesta puntata, qualcuno proposta addirittura un S01 e 06, molto robotico. Old british. No. Comunque, benvenuti, bentornati, questa è la 1 per 06 di spin-off. Quest'oggi ci vogliamo occupare dei finali di stagione che sono nati in onda nelle ultime due settimane. Nello specifico parleremo di 1883, che è lo spin-off di Yellowstone. Se non l'avete visto, cospargetevi di cenere e fustigatevi. Euphoria, appena terminato. L'amica geniale, anche detto My Brilliant Friend, per i nostri amici americani di HBO. E Peacemaker. E qui con me do il benvenuto ai miei altri due co-conduttori, direttamente dal ghetto della provincia bresciana, Aldo. Vabbè. E da Scozia Centro-Est, perché abbiamo controllato sulla mappa, Fabrizio. Ciao a tutti. Potevo dirvelo io, visto che ci vivo, ma va bene. Meglio sempre controllare le fonti ufficiali. Ringraziamo Google Maps. Detto ciò, e parlando di cartine geografiche, direi che possiamo cominciare parlando del finale di 1883, visto che la traversata durata dieci puntate da il Texas al Montana si è appena conclusa, in maniera piuttosto tragica, e seguiranno ovviamente spoiler per tutte e quattro i finali. Qualche commento? Qualche opinione? Io ho scritto la recensione, quindi nel caso abbia già letta sapete già come la penso. Molto bella, molto pesante. Ho apprezzato il coraggio nell'uccidere tanti protagonisti, perché non è morto solo uno, e di fatto nel reinventare la seconda stagione da zero, perché sono rimaste tre persone, o due e mezzo, perché il bambino non ha mai parlato nel corso di dieci puntate. A tendere sarà il protagonista, perché l'antenato di John è John. Sì, fa 50 anni il protagonista, sì. Eh vabbè, a dargli tempo. Però comunque, allora, coraggio sicuramente di togliere un personaggio come Elsa di scena, però finale a suo modo sontuoso, perché per la narrazione che c'è stata era difficile pensare che venisse eliminata proprio lei. Coraggioso. Coraggioso e ben fatto, tra l'altro, perché l'ultima puntata è molto lunga, cronologicamente occupa molto più tempo rispetto alle precedenti puntate, però si conclude nella Paradise Valley del Montana. Era pronosticabile che si sarebbe finito lì, vicino all'albero, dove sappiamo che i Datton seppelliscono tutti i membri della famiglia, eccetera. Però vederlo in scena, il finale in sé è stato molto toccante, soprattutto negli ultimi minuti, quando c'è prima l'addio con la mamma e dopo con il papà di Elsa. Veramente, veramente molto bella come puntata. Sì, tu dici preannunciato. Io storgo un po' il naso qui, perché quando si tratta di persone che ricevono una ferita mortale a livello cinematografico o seriale, molto spesso si tende a salvarle all'improvviso con qualche tecnica, Deus Ex Machina o qualsiasi altra cosa che lo sceneggiatore di turno si vuole inventare. Per cui, in realtà, non avevo creduto proprio che Elsa andasse a fare questa fine. Io avevo sempre pensato che, ok, hanno messo apposta il flash forward iniziale nella 4x01 di Yellowstone, dove lei mancava, proprio per deviare lo spettatore dal credere che lei in realtà fosse morta. Invece, Taylor Sheridan qui ha mantenuto le promesse, non scritte. Non è nuovo a uccidere i personaggi più importanti delle proprie serie TV. Tipo? Mayor of Kingston, per esempio, anche Yellowstone. Cioè, non personaggi importanti, però se torniamo indietro alla prima puntata di Yellowstone, quando viene seccato il fratello di Casey e compagnia Bella, lì era uno dei personaggi potenzialmente importanti, perché era uno dei membri della famiglia adatto. E tra l'altro quello più simile a John, che era il papà, Kevin Costner. Comunque sì, allora, questo Deus Ex Machina hanno cercato di buttarlo dentro, facendo pensare allo spettatore che potesse accadere. Nel senso, quando arrivano al forte, il medico del forte gli dice che non ha mai visto qualcuno guarire da una ferita al fegato, però potrebbe essere che cada un miracolo, gli dice il medico. Quindi già lì io un po' avevo odorato l'idea, vedi adesso che la salvano. Invece ha mantenuto fede a quanto ci si aspettava, perché diciamo che riprendersi dopo una freccia lanciata in pieno addome, tra l'altro avvelenata, perché dopo si scopre che era stata anche avvelenata. Aspetto a dirmi contento, perché diciamo che rinnovo per una seconda stagione, sono curioso di vedere cosa tira fuori Sherida. Io sarei contento così. Quando mi immagino la stagione, mi immagino un grafico a forma di U, dove inizio e fine molto buoni, nel mezzo si poteva fare molto meglio. Però torniamo al fatto che lui aveva avuto un blocco di scrittura molto importante, tanto che si era messo, scrive Mayor of Kingston e dopo si era sbloccato. Sì, non mi interessa. No, no, ma allora, molte puntate sono state veramente noiose, quello sicuro. Diciamo anche che molte parti di altre puntate che sono andate molto bene sono state pallose. Tipi tedeschi che venivano rapinati, che li portavano via il cibo, tutta quella parte lì. Detta una volta, va bene. Detta due o tre, già era inutile, superflua come cosa. Ti dico, ho fiducia. Ho fiducia perché, cioè, se penso alla scrittura di Yellowstone e tutti i personaggi che ci sono in gioco, ho buona fiducia. 1883, la prima stagione, probabilmente potevano essere concentrate in sei puntate queste qua. Speriamo che la seconda stagione magari siano meno episodi. Aspetto con non intrepidante attesa, però ho interesse in questa seconda stagione. Facendo un piccolo spoiler sulle nostre future puntate del podcast, stiamo già pianificando una sulle serie che avrebbero dovuto avere solo una stagione che poi sono state rinnovate anche se non dovevano. E personalmente metterei 1883 qua dentro perché per come finisce, per quello che dà e per l'effetto e la potenziale rovina di una seconda stagione... Ah no, dai, c'è tanta carne al fuoco, dai. Sì, c'è tanta carne al fuoco, ma tu guardi, tutti i personaggi che c'erano in questa stagione qui sono tutti morti o altrove, con impossibilitati a raggiungere i protagonisti rimasti. Il centro è la famiglia Datton, cioè il centro sarà John e saranno padre e madre di John, John è il fratello più piccolo di Elsa, che devono riprendere tutta la storia, quindi cominceranno a costruire il ranch. Ci si ricollega la puntata degli Yellowstone in cui compare lui ferito che torna a casa dopo aver seccato dei banditi. Intendevo per esempio Shea Brennan, che è interpretato da Sam Elliot, che si suicida davanti alla spiaggia, poteva non andare a suicidarsi nella spiaggia, poteva rimanere là con loro e lo stesso poteva fare anche Thomas, il sergente veterano che stava con Noemi, la vedova rumena e lo stesso si poteva dire di Joseph, il tedesco che ha una gamba amputata che viene mostrato all'improvviso dopo un anno in mezzo a un campo e cosa fa? No, niente, ma perché ognuno va avanti con la propria vita, cioè nel senso il centro della storia di Sheridan, di 1883 Yellowstone eccetera, è la famiglia Datton, tutto quello che li ruota attorno sono delle cose che si incastrano a livello di sceneggiatura, quindi sono degli orpelli, Joseph, Thomas, Shea sono parte del racconto dei Datton, ma quello che conta i Datton, anche perché Shea che si potesse suicidare, penso che fosse già pronosticabile dalla prima puntata quando parte perché deve partire, ma se muore durante il tragitto non gliene frega minimamente a lui. Io mi immaginavo una seconda stagione con alcuni di questi personaggi e magari anche una morte ad effetto durante la seconda stagione di questi personaggi, però se adesso, come è possibile che accada, c'è un salto temporale in cui ci sono i Datton già con il Ranch o che comunque si stabiliscono a Yellowstone, qualche personaggio in più già noto dal pubblico, avrebbe facilitato. Questa è l'unica cosa che dico. Sì, quello sì, avrebbe facilitato, però ripeto, io continuo a vedere come compartimento stagione, nel senso che è la storia dei Datton, tutto quello che c'è attorno li fa mutare nel tempo, cioè si adattano a quello all'ambiente, alle persone che trovano lungo il percorso, come è stato durante la carovana verso il Montana, verso l'Oregon, loro hanno mantenuto fede al loro modo di vivere e adesso che sono arrivati e hanno trovato casa, dovranno ambientarsi alla gente nuova che conosceranno. Quindi se ci sarà un salto temporale, come dici te, sarebbe stato forse più semplice con dei personaggi vecchi in scena, però non mi dispiace l'idea di vedere un nuovo punto di partenza per loro, perché ormai sono arrivati e da lì devono ricostruire tutto. Nel mente di questa registrazione giunge però, a sorpresa, bisogna dire, un'intervista di Taylor Sheridan in cui annuncia che lui ha concepito 1883 come una serie unica di una stagione e che pone tutto il nostro discorso. La cartoccia la butta nel cesso. Vorrei solo dire che Sheridan ci ha chiamato al telefono per darci questa informazione e non è che abbiamo letto, cioè è stata una cosa in tempo reale, quindi... È un nostro grande ascoltatore, ci segue. Ciao Taylor, un grande affetto. Questo pone una diatriba e di fatto la serie in uno stato comatoso, possiamo chiamarlo così? Di stasi. Di stasi, sì. Perché Paramount Plus vuole la seconda stagione, Taylor Sheridan ha detto no. Quindi come ne usciamo? Tendenzialmente ci sono due possibilità. O Paramount esercita il diritto di richiedere un'altra stagione e Taylor Sheridan con il suo blocco dello scrittore si mette a scrivere un'altra pari di stagioni e obbedisce. Oppure Paramount opta per una subdola opzione che è quella di esercitare un incremento del numero di puntate nella stessa prima stagione e che fa ovviare il declino di Sheridan nel creare una seconda stagione, perché sarebbe praticamente come parte 1 e parte 2. Praticamente non gli dicono no, ma questa non è una seconda stagione. Sono degli altri episodi, ma sono della prima. Così lui se la mette via in tasca, si mette lì, scrive con la sua matitina e tanti cari saluti. E fa, ah ma non l'avevi capito? Era una stagione di 20 episodi? Cazzo allora non dovevo uccidere tutti quei personaggi nella prima stagione. Eh sì, è andata così. Oppure semplicemente ci vediamo a 1932. Dopo c'è 666 che è un altro spin-off, dopo c'è Yellowstone, sta creando una marea di prodotti che ci terranno occupati per i prossimi dieci anni. Dipende da quanti altri blocchi dello scrittore avrà. Parlando di un altro finale di stagione, ci spostiamo adesso su HBO per Euphoria con la tanto amata e odiata Zendaya. Qui tra di noi c'è solo Fabrizio che l'ha visto, quindi dici un po'. Finale da bless, da thank, da save. Ti prego fammi sognare, dimmi che è un burn. No, assolutamente l'opposto di quello che ti puoi aspettare, ma comunque il tuo odio è soltanto nei confronti di Zendaya, ma dovresti rivalutarlo questo show, perché qua Zendaya tra l'altro interpreta un personaggio fatto su misura per lei, secondo me, il migliore che ha fatto a parer mio tra quelli che ho visto. La tossica? Ok, sono d'accordo. La tossica, eh sì, la tossica con diversi problemi personali, e secondo me c'è molto di Zendaya in questo personaggio, perché io quando vedo un personaggio che è così fatto bene, penso sempre che ci sia un po' di realtà dietro al personaggio. Chiariamo subito che non stiamo accusando la Disney di aver reso così Zendaya. No, no, assolutamente, non vogliamo farci nemici potenti. Te l'ho detto, eh, in generale il personaggio Zendaya ogni tanto mi dà un po' fastidio, per come l'hanno creato, non è colpa sua, cioè noi parliamo di Zendaya ma non è colpa sua, è un prodotto di tutto ciò. Però in questo ruolo Zendaya è sublime, è magistrale. Ti dico questo Fabrizio, questa puntata di Euphoria ha raggiunto praticamente i livelli di Game of Thrones per il HBO, in quanto a visualizzazioni e spettatori. Il che non è da tutti, però è ancora un po' distante da Game of Thrones. Beh, sono due serie abbastanza diverse tra di loro e credo che comunque il picco di ascolti sia dovuto principalmente alla fama che ha guadagnato ultimamente Euphoria, che è lo stesso motivo per cui Game of Thrones è lì, perché a un certo punto in quel caso il numero di persone che guardavano quello show era praticamente soltanto il pubblico che doveva guardare la serie per poterne parlare con gli amici, ok? Quindi la qualità poi è andata scemando vertiginosamente nelle ultime stagioni, eppure è sempre rimasto in cima. Era una, sempre una delle serie più viste in assoluto. In questo caso il successo è meritato. È una serie che riesce a entrarti dentro, ti riesce a medesimare tanto con la protagonista quanto con altri personaggi, per ovviamente svariati motivi. Questo è il fulcro del teen drama, è che tu puoi medesimarti in almeno uno dei personaggi. Questi personaggi sono talmente scritti bene che riesci sempre a trovare una piccola parte di te in ciascuno di loro, e questo qua è secondo me il vero valore aggiunto di Euphoria rispetto anche ad altri teen drama del passato che ovviamente vanno visti in relazione ai tempi in cui sono usciti. Questo è per la prima volta un teen drama che affronta le tematiche che magari erano già state trattate in altre serie come Skins, ma in maniera matura, in maniera che effettivamente al termine dell'episodio c'è un messaggio, che non è soltanto un voler far vedere gli eccessi dei giovani però senza un reale obiettivo, come secondo me è successo nella maggior parte di Skins. Non so se voi l'avete visto, ma io non è un teen drama che mi sento di consigliare solitamente. Se lo hai visto, bene, perché ci sta, è una di quelle serie che comunque nel suo ha fatto la storia, però così a livello qualitativo se dovessi consigliare un teen drama ecco allora consiglierei Euphoria. Euphoria è molto più a 360 gradi, può essere apprezzato da qualsiasi tipologia di spettatore, qualsiasi fascia d'età e ti lascia veramente qualcosa di forte. Poi sei sempre in ansia per la vita dei protagonisti, perché questo, come era Game of Thrones all'inizio, è uno di quegli show dove senti costantemente la possibilità che uno dei protagonisti, di uno dei personaggi, cioè ci lasci le penne così. Ovviamente non è come in Game of Thrones perché non ci sono guerre e gente che si affetta con le spade, quindi ovvio che non è che muoiano così ogni puntata. Giusto per dare qualche numero, visto che sono Rain Man qua, la prima stagione di Euphoria ha totalizzato una media di 6 milioni e mezzo di spettatori. Questo nei cosiddetti di 90 giorni che HBO si dà come tempo massimo per calcolare gli effettivi spettatori tra streaming, dirette, app e così via. Downloadi legali. No, quelli sono esclosi. Dai 6 milioni e mezzo della prima stagione, la 2x01 ha totalizzato 19 milioni di spettatori. È un bel per 3 rispetto a come era finito e la media stagionale si è girato nei 16. Quindi siamo ovviamente distanti dalla stagione finale di Game of Thrones che totalizzava in media 46 milioni di spettatori. Però se tanto mi dà tanto, la terza stagione di Euphoria andrà raddoppiando. Il problema che molto semplicemente separa Game of Thrones da Euphoria è molto banalmente la tipologia di spettatore. Perché Game of Thrones prendeva tutto il mainstream, era una serie che bene o male poteva essere vista da chiunque. Le prime stagioni un po' più pesantine, ma la prima stagione un po' più pesantina, ma poi dopo quella era una serie adatta veramente a chiunque. C'è i bambini, c'è la violenza, eccetera, ma per qualsiasi spettatore. Mentre Euphoria, se già non ti piace il genere teen drama, ti sei già precluso una bella fetta di pubblico. Cioè a Game of Thrones ci sono i nerd, quelli che hanno letto il libro, quelli che vogliono parlare con gli amici della serie più cool del momento. Mentre Euphoria rimane un po' di nicchia e si è meritata dal suo successo proprio perché è una serie di qualità e la gente se ne accorta. Però gli manca quella cosa in più. Perché il teen drama, mi rendo conto che non è un genere digeribile per tutti. E quindi secondo me quello già taglia una bella fetta di spettatori. Poi vabbè, Game of Thrones era anche un fenomeno diverso perché era dappertutto, ovunque. Io qua a Edimburgo ti giravi e c'erano fermate dell'autobus, Game of Thrones dappertutto, attori di qua, attori di là. E invece Euphoria, il suo successo se l'è ottenuto in maniera onesta, diciamo. Vabbè, ma alla fine non ho capito. Cioè, bella stagione, ok, ma il finale meglio della stagione. hai detto che purtroppo non è un burn, quindi io sono un po' dispiaciuto. Allora, nel complesso, devo dire che questa puntata riassume un po' l'andazzo stagionale di Euphoria, che è stato clamoroso. Nessuna puntata andava sotto il tank, almeno utilizzando la nostra valutazione. Ci sono stati dei bless forse un po' aggressivi, ma sono comunque giustificati dal fatto che la stagione ha tenuto un livello costante dall'inizio alla fine. Ora non voglio entrare troppo nel merito perché non voglio spoilerare, visto che Euphoria sta appunto diventando un fenomeno, non voglio stare a esagerare. Però la puntata si svolge su due storyline separate, che sono quella della recita di Lexi e quella di Feds, Ash e l'incursione in casa sua. La parte della recita è la parte che ti fa piangere. La parte della criminalità, la parte crime, ti fa veramente provare un'attenzione costante, ma a livelli molto importanti. È una scena costruita in maniera fantastica. Ogni primo piano, ogni sparo, ogni urlo, ogni cosa. Dall'inizio alla fine è un costante, oh mio Dio, qua muoiono tutti, qua muoiono tutti sicuro, adesso muoiono tutti. Quindi poi, vabbè, vedrete. Non stiamo a entrare nel merito. Mentre dall'altra parte la recita si concentra sugli altri personaggi e attraverso il palco cerca di mettere in scena quelli che poi sono stati i veri problemi di infanzia e adolescenza dei protagonisti. Il momento iniziale prevedibile della risa sul palco è la cosa che dal via la puntata, dopo tre secondi inizia a entrare nel vivo, non c'è neanche il tempo di respirare che bam, c'è già un casino, gente che si mena sul palco eccetera, quindi questo lo apprezzo sempre di euforia che non si perde in chiacchiere. Un finale che almeno dalla parte crime lascia di stucco, lascia un po' così in sospeso in attesa della terza stagione, però diciamo che non si prospetta niente di buono. In quanto a Zendaya, in quanto alla morte del personaggio interpretato da Zendaya, sinceramente penso che il destino del personaggio vada verso quella direzione, perché all'inizio di questa stagione sembrava che dovesse peggiorare molto la situazione di Ru, sia dal punto di vista emotivo e i problemi personali e dal punto di vista dell'aspetto criminale, quindi del fatto che si fosse associata a persone effettivamente pericolose. Poi c'è stato questo stop da questo lato per concentrarsi su questa recita e quindi più sull'aspetto personale dei vari personaggi, quindi credo che la terza stagione proseguirà andando verso quella direzione, cioè verso la morte del personaggio, secondo me. E sempre parlando di un altro finale di stagione, coprodotto da HBO e Rai, stiamo parlando dell'amica geniale che è andata in onda con il settimo ottavo episodio un paio di giorni fa. Prima di partire con le opinioni ci scusiamo con il regista di questa stagione che è Daniele Lucchetti, con un AC che ci ha blastato su Twitter. Ciao Daniele, grazie mille, ora staremo molto più attenti. Fate queste scuse doverose dopo la blastata. Opinioni sul finale? Questo è il vero finale di stagione e di serie, anche se sappiamo che c'è una quarta stagione con diversi personaggi. Non è un finale di serie infatti, nel senso che ci sarà una quarta stagione che prenderà in esame l'ultimo libro della quadrilogia, che è la storia della bambina perduta, che racconterà l'ultima parte della storia di Elena Greco. E tra l'altro da precisare l'ordine con cui è stato presentato questo progetto da HBO e Rai. Non avendo letto io personalmente i libri, avendo letto in giro Sinossi e quant'altro di come è strutturato il libro e di le varie conclusioni anche di quelle passate, tipo la storia del nuovo cognome che era la seconda, c'è particolare ordine da parte di HBO e Rai da questo punto di vista. E tra l'altro, nota margine, questa è l'ultima stagione con Margherita Mazzucco, che ha ricoperto il ruolo di Elena Greco dalla prima alla terza stagione, verrà sostituita da Alba Rohr Wacker dalla prossima stagione. Tra l'altro compare nel finale di questa stagione, nel momento in cui Elena si ritrova all'interno del bagno dell'aereo. Piccolo spoiler, però va bene, non è niente di particolare, è la scena conclusiva della puntata in realtà. Questa stagione, forse più delle precedenti, a mio avviso è stata una mattonata, come dicevo voi prima nel backstage di spin-off. Mattonata non nel senso che si è trattato di una stagione pesante e brutta, perché rimaniamo comunque a mio avviso su livelli molto alti, ma mattonata perché gli argomenti trattati all'interno della stagione, per il motivo che Elena Greco sta chiaramente crescendo e diventando una donna adulta, sono diventati molto più pesanti, molto più seri, molto più quotidiani, se vogliamo metterla così, perché viene affrontato anche il tema della donna come oggetto. Quindi c'è un certo appesantimento durante la visione dettato da queste tematiche. Però quello che viene restituito poi è una stagione che comunque ha dei contenuti validi. Ripeto, io non ho letto i libri, ma personalmente ho delle alte aspettative per l'ultimo capitolo, che avrà il titolo di Storia della bambina perduta, che è l'ultimo romanzo di Elena Ferrante. L'unico mio dubbio è come riusciranno e se lo faranno di ricongiungersi al punto con cui era iniziata tutta la storia, quindi con il figlio di Lila e Stefano che va a chiedere ad Elena di aiutarla perché la madre è scomparsa, perché ricordiamo che nella prima stagione, nella prima puntata, era tutto iniziato da qua. Dopo è partito il lunghissimo racconto dalle origini, di come si sono conosciute Lila ed Elena e tutte le varie stagioni fino a quella appena conclusa, sì. Vediamo come andrà a finire. Chiudere con una domanda, ovvero se guardi le tre stagioni nel loro complesso, dammi un ordine tra la migliore alla peggiore. Allora, a livello contenutistico questa terza stagione è decisamente meglio, ma come dicevo prima, a mio avviso molto pesante, ma non è un lato negativo. Tra le altre due, quindi la metterei al primo posto. Tra le altre due stagioni invece metterei la prima stagione al secondo posto e la seconda all'ultimo. Tra la prima e la seconda per me non c'è questa grande differenza. C'è un salto di qualità in questa terza stagione, ma a livello contenutistico. A livello invece di pesantezza della visione, questa terza stagione è comunque al primo posto, ma perché è quella più pesante da seguire. Per me. Poi è chiaro che qualcun altro magari avrà avuto una reazione diversa e non discuto minimamente, però devo dire che a mio avviso è abbastanza pesantina questa stagione. Dulcis in fondo, bisogna parlare ovviamente di peacemaker, anche chiamato erroneamente più volte pacemaker dagli amici più intimi, però è peacemaker. Peacemaker, non pacemaker. Pacemaker, il supereroe che ti ha a cuore. Quello che ti tiene in vita, col defibrillatore. Un commento generale alla stagione mi è piaciuta, è sicuramente diversa rispetto alle serie DC che abbiamo visto su DCW. Forse è la prima che è effettivamente di qualità, che può riscontrare un apprezzamento più o meno comune da parte del pubblico. Fa ridere, è piena di azione, c'è un sacco di demenzialità, che io adoro personalmente. Ha la sigla più bella probabilmente degli ultimi vent'anni, quindi c'è... Minchia bellissima, sì sì. Dopo Dozen Creek. Non tanto per la canzone che è stupenda, un grande classico di Una Tasted, ma soprattutto per la coreografia che c'è dietro alla sigla, all'opening. E poi vabbè, effettivamente è un telefilm che ti tiene incollato al televisore. Io onestamente ero una di quelle serie che volevo subito vedere come proseguiva, come sarebbe proseguita. Come Ozark, venga? Come Ozark. Ma Ozark te l'ho già spiegato. Ozark alla fine l'ho recuperata e alla fine del recupero ho detto, cazzo, potevo recuperarla prima. Però è così, la prossima stagione, cioè la prossima parte della stagione sarà la stessa cosa. Uscirà e dirà, poi me l'ha guardato ad un fiato. 29 aprile. Ecco, vedi, pure vicino. Ci aspettiamo. Sì, sì, assolutamente. Però sì, anch'io apprezzata a pieno. Che bella la sigla, ripeto. Cioè, penso come Fabio, penso che è per la coreografia, non tanto per la musica. È serie che si è lasciata guardare, venendo, arrivando dal mondo DCW, con Flash, Arrow, tutta quella roba vomitevole. Pattume. Pattume, andiamogli il nome. Cioè, è comunque peggiorato tutto quanto, il cosiddetto Arrowverse. All'inizio non era male. All'inizio, nei primi anni, bisogna ammettere che era molto carino, aveva fatto bene, aveva del potenziale. Poi dopo 4-5 anni... Trapportiamo questa retroscena. Mi hai obbligato a guardarmi The Flash e Arrow in un'estate perché ti servivano avanti quelle recensioni. Diciamolo queste cose. Due serie TV che c'erano già 6 o 7 stagioni fuori. Una roba mostruosa, un po' scena da non vedere. E non è vero che è cambiato. Flash è rimasta la solita vaccata dall'inizio alla fine. Qualcosa c'era di più. È peggiorato molto. Vabbè, perché forse giocava con i viaggi temporali, i salti, la linea. Quello lì è quello negativo, questo qua è quello positivo, il tempo e la velocità. Arrow, ripeto, è l'unica serie TV che ho recuperato con piacere, nonostante le vaccate che abbia nascosto nel corso delle stagioni, perché c'era un bel personaggio che aveva il suo demone interiore. Flash, no. Flash è veramente una roba, un pattume, come dice Fabri, di dimensioni bibliche. La differenza principale tra Peacemaker e la serie dell'Arroverse è che Peacemaker si basa, o in realtà è uno spin-off di The Suicide Squad, che fa parte dell'universo cinematografico della DC, cosiddetto DC Extended Universe. Il secondo che hanno fatto, quello merita, e quindi secondo me si prestava molto bene la serie a regalare, a sfornare nuovi personaggi per eventuali serie TV stand-alone, però veramente... Sì, anche perché James Gunn è stato regista e sceneggiatore del sequel di Suicide Squad, quindi di Suicide Squad, e aveva già posta, creato il personaggio di Peacemaker per poi dargli una serie TV a parte. Serie TV che tra l'altro è stata rinnovata per una seconda stagione, e basandoci sulle tempistiche e gli impegni cinematografici Legacy, Guardians of Galaxy 3 di James Gunn, secondo me non vedrà la luce più nel tardo 2023 e inizio 2024, così a spanne. Comunque... C'è anche da considerare che questa è una produzione HBO, c'è senso adesso, magari sarà un luogo comune dire che è HBO eccetera, però c'è anche quello da considerare. senza togliere... Hai qualche milioncino buttato là, ce l'hanno visto. Sì, sì, non che The Flash non li abbia, visto quanto viene pagato quel cane di Barry Allen, però questo è un altro discorso. Il punto è che comunque qua c'è un attore carismatico, cioè John Cena avrà tutte le limitazioni attoriali del caso, però fa un personaggio che è credibile, cioè se tu mi dici, penso a un altro attore da mettere in quel ruolo, dopo averlo visto mi verrebbe un altro peacemaker, cioè al posto di lui chi ci metteresti? No, gli hanno messo anche il background da persona che va in palestra, da persona che si allena, infatti c'è anche John Cena che spesso e volentieri fa affermazioni riguardo al suo allenamento, alla sua alimentazione e quindi è facile confondersi, i confini tra John Cena e personaggio peacemaker qualche volta spariscono proprio, è davvero. Sono d'accordissimo perché John Cena è un altro The Rock, è uno di quelli che tu ce lo butti nel mezzo e chiunque te lo guarda, perché è quella figura che attira tutti quanti e mette tutti d'accordo, simpatico, un po' coglione, c'è una cosa bella alla fine. Parlando del finale, mi è piaciuto ma non mi ha entusiasmato, nel senso, sì, bello lo scontro finale, ci sta anche l'utilizzo degli elmi di peacemaker, molto ad hoc, cioè anche perfetto nel contesto piuttosto demenziale della serie. L'elmo con l'impulso è un po' OP, è un po' una roba che tu butti e distrugge tutto, secondo me è un po' da bambini, però sì, ho apprezzato anche io quello. E' anche Igli che porta fieramente l'elmo nel punto strategico, scaraventandolo dopo dall'altra parte della zona, rispetto al caseggiato. Però, appunto, riconducendoci con quello che abbiamo detto di 1883, con personaggi e con ferite apparentemente mortali che poi sopravvivono, qui questo è il caso, quindi mi aspettavo la morte di almeno due persone e invece sopravvivono tutti. L'ho vista un po' come una mossa fatta apposta perché volevano puntare su un mezzo lieto fine e soprattutto non privarsi di nessun personaggio per la seconda stagione che è già rinnovata e quindi secondo me è stato un po', sì, hanno un po' tirato il culo qua, potevano essere un pochettino più coraggiosi, però, boh, nell'ottica di una seconda stagione tu avresti voluto quei personaggi morti definitivamente. No, vigilante no. No, ma appunto, appunto, mi rifaccio a 1883, non avrei voluto morti neanche alcuni character là, quindi è proprio un modo diverso di fare serie tv, in uno è audace, qui è più ok, si sono salvati in qualche modo, ci servono una seconda stagione, per cui la ferita quasi mortale di vigilante e la ferita altrettanto mortale a Emilia Harcourt potevano essere trattate un attimo meglio. No, vabbè, allora, vigilante era, cioè, lo trovo credibile che sia resistito considerando la puntata in cui viene torturato in modo molto ilare, mentre John Sino lo prende per il culo, ignorandone il dolore di fronte. Mentre invece quello di Emilia, io ero strassicuro che crepasse, ma sicurissimo. Invece, devo dire... Invece sai perché ancora arriva? Perché deve essere la vera storia d'amore con John Sino. No, perché l'attrice, in realtà, è la fidanzata di James Gunn. Ah, è vero, è vero, è vero. Vero, vero, vero. Mi l'avevate detto, me l'hai detto già forse. Queste cose fatte in famiglia, ahumma, ahumma, mica scemo, tra l'altro. Eh, infatti, infatti. Tra l'altro, chicca, James Gunn si è appena proposto alla sua ragazza e l'è accettato e John Sina si è candidato per sposarli vestito da peacemaker. Ma davvero? E hanno accettato. Non è chiaro se James Gunn e Emilia Harcourt davvero hanno accettato, ma sarebbe tanta roba. Ma è presente? Cioè, io citterei su, cioè, non ho questo grande pensiero del matrimonio, però, cioè, quando ti ricapri, devi essere da John Sina vestito da un supereroe. Tanta roba. Ecco, diciamo che forse, ecco, il personaggio che mi dispiace che sia stato eliminato è Robert Patrick, il papà di John Sina. Capisco la logica di mantenerlo come spirito, guida, tra virgoletto, comunque demone, pensiero, maligno, che si annita nella mente di peacemaker, però avrei preferito vederlo in scena. Avrebbe avuto tutto un altro riscontro, anche di semplicemente di presenza. Però in questo caso, secondo me, era una mossa doverosa. Era il passo per lui per finalmente rendersi indipendente dal giudizio costante di quest'uomo che non gli mostra mai amore, nonostante lui cerchi in tutti i modi di farsi vedere, e attirare la sua attenzione. E forse, alla fine, dopo che ha tentato fisicamente di ucciderlo, ha pensato quasi quasi. Boh, basta, io ti ho dato mille opportunità, adesso basta. E quindi ti ammazzo che è la mossa giusta nel suo percorso, che ancora siamo ben lontani da aver raggiunto qualsivoglia meta, visto appunto la conclusione dell'episodio. Però lì serviva una svolta, perché non è possibile che quello lì rimanga così assoggettato dall'ombra di suo padre e non faccia mai nulla per ribellarsi. Questo che fosse un punto di chiusura per il character, ok, ma personalmente, avendo presente altre serie tv in cui avviene questa cosa di chiusura del passato, in cui lo uccidi oppure tagli i ponti con una figura della tua vita, diciamo che l'avrei vista più avanti nella storia. Una seconda stagione magari avrebbe avuto più senso questa cosa, non allora, ecco. Ma sai perché? Perché anche nel film di Suicide Squad, che tutti dicono il seguito, ma in realtà se tu lo guardi capisci che è un tentativo di cancellare quello che è stato il primo, rimpiazzandolo con un altro. E la sequenza iniziale, ma anche poi molte sequenze più avanti, ti fanno capire quanto a lui non interessino queste mosse. Cioè se il personaggio deve morire, muore. Anche se è uno dei protagonisti, anche se piace a tutti, anche se deve morire, muore. Tranne la fidanzata. Tranne la fidanzata, beh, chiaramente, cosa fai? Quella lì la fai fuori, quando poi ritorni a casa cosa fai? Devi sorbire pure, quindi no. Questa la fai recitare, a me invece non mi hai tagliato fuori, mi hai fatto morire. Ma nel film, appunto per non spoilerare, ci sono tante morti importanti che avvengono nei modi veramente più beceri, perché secondo me è proprio stato nel suo stile. Anche solo all'inizio del film. Esatto, è quello soprattutto mi riferisco. Dopo 20 secondi di film. Ma secondo me fa proprio parte del suo modo di portare sullo schermo Peacemaker e, vabbè, e tutti i vari eroi attorno a lui, anti-eroi attorno a lui. E quindi non ci si deve stupire più di tanto. Se la morte magari del padre per sua mano risulti un po' affrettata, è proprio quello il suo modo di raccontare, il suo stile di scrittura. Possiamo dire bello, ma non bellissimo. Secondo me ci poteva essere magari una puntata o due nel confronto, magari svettava, allora si poteva dare un bless. Ma secondo me mantenere sul tank, quindi un ideale otto, è una decisione più onesta. Più onesta anche perché personalmente mi ricordo tante parti che mi sono piaciute, tipo quella che ho già citato della tortura di vigilante, per me è quello uno dei momenti più divertenti, ma comunque che crea pathos all'interno perché dici, ok, adesso sta torturando ed è divertente, ma se lo secca. Dice molto della tua personalità il fatto che citi proprio la tortura e che ti sia piaciuta. Vabbè, ma perché era un bel pezzo, dai, adesso non è che sarò soltanto io su quello salico a cui è piaciuta, vero? Provincia di Brescia, ricordiamo, nel caso ci siano nuovi serial killer. Il mostro di Brescia, adescava i vigilanti per il paese per torturarli. No, comunque, a parte quella scena lì ce ne sono un altro paio, tutti i dialoghi con il vigilante all'interno del bus, quando si spostano, oppure con Igli, quando si vede che è palesemente ricreato in computer grafiche, lui cerca o di accarezzarlo, oppure quando viene abbracciato, o tutta la parte con i poliziotti, ci sono molte parti ma sono seminate qui, e là ad un'altra stagione. Cioè non è che mi viene in mente una puntata che ti dico, quella puntata è veramente bellissima. Sono tutti piccoli pezzi qui e là, sparsi. Quindi il Fank The Mall per me ci sta. Detto ciò ringrazio tutti quanti, un saluto da Berlino. Dalla periferia oscura di Brescia. Da Edimburgo. Ciao e alla prossima. Minchia che energia, ciao alla prossima. Cordiali saluti e grazie mille. Complimenti per l'aredamento, è bell'allegro. Fabrizio? Presidente? Presidente? Sono tornato, credo. Ok. Ogni tanto il mio internet, boh. You know, that gets funnier every time. You're being sarcastic, but I think it does actually get funnier every time.